Ciao a tutti, ciao a tutti, buona giornata, buona giornata, parliamo dell'acqua diamantina o acqua diamante. Pochissimi sanno la vera storia dell'acqua diamantina o acqua diamante, o meglio, su web adesso trovate solo la versione del 1994. Si dice che nel 1994, dopo tre sogni, quindi dopo tre notti di sogno, è stato costruito questo alambicco di vetro, attraverso poi delle illuminazioni particolari, eccetera, che creano questa attrezzatura che si chiama DNA850, se ben ricordo. Attraverso di questa cosa, inviata dalla quinta e dalla sesta dimensione, si ottiene un'acqua con delle vibrazioni che captano le intenzioni e quindi possono produrre benefici quali anche la cicatrizzazione delle ferite e la guarigione di alcune malattie. Pochi sanno che dell'acqua diamante o acqua diamantina se ne parla già dagli anni 70 e sempre con la famosa ondata New Age si parlava di questa acqua diamante e allora si diceva che fosse stata portata da alcuni estraterrestri sulla Terra. Un'altra versione era quella di averla trovata in una sorgente, in una foresta tropicale come quella del rio delle Amazzoni e questa acqua appunto ha la possibilità sia di trasmettere vibrazioni sia di mantenere la memoria. Ed è praticamente infinita perché è sufficiente prenderne un 100 ml, 100 millilitri e scioglierla in un litro d'acqua oppure una ramigiana da 50 litri a secondo delle versioni e quindi noi continuiamo a produrre acqua diamante perché lei poi trasmette queste vibrazioni e trasmette questa memoria all'acqua che noi le aggiungiamo. La promessa di Chiron che potete trovare anche nel libro di Joel Ducattilon è questa di questa acqua diamante che prima di berla bisogna imporle, come dire, non imporle ma trasmetterle le intenzioni. Quindi se l'intenzione è voglio digerire bene si digerirà bene. Tra le altre cose permette di elevarsi dal punto di vista vibrazionale, quindi basta una caraffa di questa acqua diamante lasciata libera, aperta per casa, una caraffa così di acqua insomma appoggiata magari come centro tavola e questa eleverà le vibrazioni del vostro domicilio. Nelle versioni invece precedenti, diciamo così, degli anni 70, l'acqua diamante trasmette anche altre cose oltre alle vibrazioni. Per esempio se viene a contatto con dei medicinali, se viene a contatto con qualcosa, trasmette le loro proprietà, un po' come fanno i fiori di bacche e le soluzioni dei fiori di bacche. Quindi noi abbiamo due versioni, una versione più vecchia e adesso invece quella versione più moderna che tende a dare l'inizio appunto di questa acqua diamante o acqua diamantina nel 1994, dopo questi sogni. In realtà come vi dicevo la storia è molto più antica e la si trovava già negli anni 70 appunto attraverso questa filosofia new age nella quale venivano riportate tante cose, tra cui il cubo dell'angelo Metatron, anzi dell'arcangelo Metatron, la voce di Dio ve ne avevo già parlato, già accennato. E tra queste cose c'era appunto anche l'acqua diamante. Allora la derivazione non era più dovuta dai sogni ma dagli alieni o da questo ritrovamento, come vi ho già detto, nella foresta degli Amazzoni. Bene, adesso sapete anche la storia dell'acqua diamante o dell'acqua diamantina? Scrivetemi nei commenti se ne avevate già sentito parlare in giro e cosa vi sembra di questa acqua diamante. Ovviamente poi le cose sono esattamente come le avete capite. Ciao a tutti dal Pirata! Ciao! Ciao a tutti!